Ma quale crisi! Il capitale non è mai stato così in forma. Bentrovate e bentrovati a Scrooge's Digest, la rubrica del vostro Scrooge. Oggi voglio partire da una semplice considerazione. Il capitalismo governa il mondo. Con pochissime eccezioni, in tutto il pianeta la produzione economica è organizzata nello stesso modo. Il lavoro è volontario. Il capitale è per lo più in mani private. E la produzione è coordinata in modo decentralizzato e motivata dal profitto. Non esiste un precedente storico per un trionfo di questa portata. In passato, il capitalismo, nella Mesopotamia del VI secolo a.C., nell'impero romano, nelle città-stato italiane del Medioevo, nei Paesi Bassi della Prima Era Moderna, ha dovuto coesistere con altri modi di organizzare la produzione. Tra questi c'erano la caccia e l'agricoltura su piccola scala, la servitù della gleba e la schiavitù. Fino a un centinaio d'anni fa, quando la produzione industriale e il commercio mondiale permisero la nascita della prima forma di capitalismo globalizzato, molti di questi modi di produzione alternativi esistevano ancora. Dopo la rivoluzione russa del 1917, il capitalismo si spartì il mondo con il comunismo, che estese il suo dominio su circa un terzo della popolazione globale. Oggi, il capitalismo è l'unico sistema di produzione rimasto. Sempre più spesso, i commentatori occidentali parlano di tardo capitalismo, come se il sistema economico attuale fosse sul punto di scomparire. Altri sostengono che il capitalismo sia nuovamente minacciato dal socialismo, ma la verità è che il capitalismo è destinato a durare e non ha concorrenti. Tutte le società hanno introiettato il suo spirito competitivo e insaziabile, senza il quale i redditi diminuiscono, la povertà aumenta e il progresso tecnologico rallenta. La vera battaglia oggi è interna al capitalismo, tra due modelli che si scontrano l'uno con l'altro. Nella storia umana, il trionfo di un sistema o di una religione è spesso seguito da uno scisma tra le varianti dello stesso credo. Dopo essersi diffuso nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, il cristianesimo fu attraversato da feroci dispute ideologiche che sfociarono nella prima grande spaccatura religiosa tra chiesa orientale e chiesa occidentale. Lo stesso vale per l'Islam, che dopo la sua vertiginosa espansione si divise in sciiti e sunniti, e per il comunismo, che ebbe una versione sovietica e una maoista. Sotto questo aspetto il capitalismo non fa eccezione. Oggi dominano due modelli, che si differenziano dal punto di vista politico, economico e sociale. Negli stati dell'Europa occidentale, in Nord America e in altri paesi come l'India, l'Indonesia e il Giappone, domina una forma meritocratica liberale di capitalismo. Un sistema in cui gran parte della produzione è affidata al settore privato, che incentiva i talenti a emergere e cerca di garantire opportunità a tutti attraverso misure come la scolarizzazione gratuita e le tasse di successione. Poi esiste il capitalismo guidato dallo Stato. La Cina è l'esempio principale, ma questo sistema sta emergendo anche in altre parti dell'Asia, Birmania, Singapore, Vietnam, in Europa, Azerbaijan, Russia e in Africa, Algeria, Etiopia, Rwanda. E' un sistema che privilegia alti tassi di crescita economica e limita i diritti politici e civili delle persone. Queste due versioni del capitalismo sono in competizione, perché sono profondamente intrecciate tra loro. L'Asia, l'Europa occidentale e il Nord America, che insieme rappresentano il 70% della popolazione mondiale e l'80% della produzione economica, sono costantemente in contatto attraverso il commercio, gli investimenti, il movimento delle persone, il trasferimento di tecnologie e lo scambio di idee. Queste connessioni e collisioni hanno creato tra l'Occidente e alcune parti dell'Asia una competizione resa ancora più accesa dalle differenze tra i rispettivi modelli di capitalismo. Sarà questa rivalità, e non quella tra il capitalismo e un sistema alternativo a determinare il futuro dell'economia globale. Nel 1978 quasi il 100% della produzione economica cinese era affidato al settore pubblico. Ora quella quota è sotto il 20%. Nella Cina di oggi, come nei paesi capitalisti occidentali, i mezzi di produzione sono per lo più in mani private. Lo Stato non impone alle aziende decisioni sui prodotti e sui prezzi, e la maggior parte dei lavoratori percepisce un salario. La Cina, dunque, si caratterizza come un paese assolutamente capitalista. Oggi il capitalismo non ha rivali. Ma i due modelli descritti in precedenza propongono modi molto diversi di strutturare il potere politico ed economico all'interno di una società. Il capitalismo a guida statale promette alla popolazione alti tassi di crescita economica e garantisce un ampio margine di manovra alle elite politiche. Il successo della Cina mette in dubbio l'affermazione sostenuta da molti nel mondo occidentale secondo cui esiste una relazione diretta tra capitalismo e democrazia liberale. I vantaggi del capitalismo liberale sono noti, in particolare la democrazia e lo Stato di diritto. Si tratta di due caratteristiche intrinsecamente virtuose che, favorendo l'innovazione e la mobilità sociale, possono stimolare lo sviluppo economico. Tuttavia, questo sistema affronta oggi una sfida enorme. La nascita di un'elite, che perpetua se stessa attraverso una crescente disuguaglianza. È la più grave minaccia alla sostenibilità a lungo termine del capitalismo liberale. La Cina e altri paesi con sistemi simili, invece, sono costretti ad alimentare una crescita economica costante per legittimare il dominio politico dei governanti, un obbligo che rischia di rivelarsi sempre più difficile da mantenere. Inoltre, il capitalismo a guida statale deve lottare per arginare la corruzione, che è insita nel sistema, e l'aumento vertiginoso della disuguaglianza, a sua volta frutto della corruzione. Il banco di prova di questo modello sarà la sua capacità di frenare una classe capitalista in crescita, che spesso cerca di divincolarsi dal potere arrogante della burocrazia statale. Man mano che altre regioni del mondo, in particolare i paesi africani, tenteranno di trasformare le loro economie e di rilanciare la crescita, le tensioni tra i due modelli diventeranno sempre più forti. Spesso la rivalità tra Cina e Stati Uniti è presentata in termini semplicemente geopolitici, ma in realtà è come lo sfregamento tra due placche tettoniche che definirà l'evoluzione del capitalismo in questo secolo. Il dominio globale del capitalismo è uno dei due cambiamenti epocali che il mondo sta attraversando, l'altro riguarda gli equilibri del potere economico tra l'Occidente e l'Asia. Per la prima volta dalla rivoluzione industriale i redditi in Asia si stanno avvicinando a quelli dell'Europa occidentale e del Nord America. Nel 1970 i paesi occidentali avevano in mano il 56% della produzione economica mondiale e l'Asia, incluso il Giappone, il 19%. Oggi, solo tre generazioni dopo, le percentuali sono passate rispettivamente al 37% e al 43%, soprattutto grazie alla sorprendente crescita economica di paesi come la Cina e l'India. Il capitalismo occidentale ha creato le tecnologie dell'informazione e della comunicazione che hanno rimesso in moto le forze della globalizzazione alla fine del Novecento, il periodo in cui l'Asia ha cominciato ad accorciare il divario con il Nord del mondo. Inizialmente legata alla ricchezza delle economie occidentali, la globalizzazione ha rifondato strutture decrepite e ha portato a una rapidissima crescita in molti paesi asiatici. La disparità di reddito a livello mondiale è diminuita, in modo sostanziale, rispetto agli anni 90, quando il coefficiente di Gini, una misura della distribuzione del reddito dove 0 rappresenta la perfetta uguaglianza e 1 rappresenta la perfetta disuguaglianza, globalmente era 0,70. Oggi è circa 0,60. Il dato scenderà ulteriormente man mano che i redditi continueranno a crescere in Asia. Se la disuguaglianza tra i paesi è diminuita, la disuguaglianza al loro interno è cresciuta, specialmente in quelli occidentali. Dal 1979 ad oggi, il coefficiente di Gini per gli Stati Uniti è passato da 0,35 a circa 0,45. L'aumento della disuguaglianza interna è in gran parte dovuto alla globalizzazione e ai suoi effetti sull'economia occidentale più ricca, l'indebolimento dei sindacati, la perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero e la contrazione dei salari. Il capitalismo meritocratico liberale è venuto alla luce negli ultimi 40 anni. Per comprenderlo meglio, va confrontato con altre due varianti del modello capitalistico, quella classica, che è stata predominante nell'Ottocento e all'inizio del Novecento, e quella socialdemocratica, che ha caratterizzato gli stati sociali dell'Europa occidentale e del Nord America tra la Seconda Guerra Mondiale e l'inizio degli anni Ottanta. Se nel capitalismo dell'Ottocento la ricchezza si fondava solo sulla proprietà, nel sistema attuale proviene sia dal capitale sia dal lavoro. I ricchi tendono anche a sposarsi e a formare famiglie con partner che hanno una storia scolastica e finanziaria simile alla loro, un fenomeno che i sociologi chiamano accoppiamento assortativo. Mentre nel capitalismo classico le persone al vertice della distribuzione delle reddito erano spesso banchieri, oggi sono manager altamente retribuiti, web designer, medici, consulenti di investimento e altri professionisti d'elite. Queste persone si guadagnano i loro ricchi stipendi lavorando, ma traggono anche una buona fetta di reddito dai loro patrimoni finanziari attraverso i propri risparmi o per via ereditaria. Nel capitalismo meritocratico liberale le società sono meno disuguali rispetto all'epoca del capitalismo classico. Le donne e le minoranze etniche sono più libere di entrare nella forza lavoro e le prestazioni e trasferimenti sociali pagati con le tasse sono usati per mitigare gli effetti più deleteri dell'eccessiva concentrazione della ricchezza e del privilegio. Il capitalismo meritocratico liberale ha ereditato queste ultime misure dal suo predecessore diretto, il capitalismo socialdemocratico. Questo modello era strutturato intorno al lavoro industriale ed era caratterizzato dalla presenza di sindacati forti che ebbero un ruolo importante nella riduzione delle disuguaglianze. Nell'epoca in cui il capitalismo socialdemocratico si affermò furono approvate misure come il trattato di Detroit del 1950, un contratto collettivo negoziato dal sindacato per i lavoratori del settore automobilistico statunitense e in Francia e in Germania ci fu il boom economico che generò un relativo aumento dei redditi. La crescita era distribuita in modo abbastanza uniforme, i cittadini potevano avere più accesso all'assistenza sanitaria, agli alloggi e all'istruzione e un numero maggiore di famiglie poteva salire la scala sociale. Ma con l'avvento della globalizzazione e del capitalismo meritocratico liberale la natura del lavoro è cambiata in modo significativo, soprattutto dopo che la classe operaia industriale si è ridotta e i sindacati sono stati ridimensionati. Dalla fine del Novecento la quota del reddito da capitale rispetto al reddito totale sta aumentando. Vuol dire che una fetta sempre più consistente del PIL proviene dai profitti realizzati dalle grandi aziende e da chi è già ricco. Questa tendenza è piuttosto evidente negli Stati Uniti ma ricorre nella maggior parte degli altri paesi, in quelli in via di sviluppo come in quelli industrializzati. Se la quota del reddito da capitale cresce significa che il capitale e i capitalisti stanno diventando più importanti del lavoro e dei lavoratori e quindi acquisiscono più potere economico e politico. E significa anche che aumenta la disuguaglianza perché quelli che traggono una grande parte del proprio reddito dal capitale di solito sono ricchi. Se il sistema attuale ha prodotto un'elite più varia in termini sia di genere sia di appartenenza etnica i meccanismi del capitalismo liberale hanno inasprito la disuguaglianza spesso mascherata dietro il velo del merito. Rispetto ai loro predecessori nell'età dell'oro oggi i ricchi possono più plausibilmente affermare che la loro posizione deriva dall'etica del lavoro dimenticandosi dei vantaggi acquisiti da un sistema e da tendenze sociali che rendono la mobilità economica sempre più difficile. Negli ultimi 40 anni abbiamo assistito all'affermazione di una classe privilegiata quasi inamovibile che è sempre più isolata dal resto della società. Negli Stati Uniti il 10% più ricco della popolazione possiede più del 90% dei patrimoni finanziari. Chi fa parte delle classi dominanti ha un alto livello di istruzione generalmente lavora e ha stipendi mediamente alti di conseguenza tende anche a credere di meritare il proprio status. Le persone che appartengono all'elite investono fortemente nei loro discendenti e nel consolidamento del controllo politico puntando sull'istruzione dei figli permettono alle generazioni future di mantenere un reddito da lavoro elevato e uno status tradizionalmente associato alla conoscenza e all'istruzione. Investendo nell'influenza politica elezioni, università, centri di studio sulla politica e l'economia si assicurano di controllare i meccanismi che regolano le successioni in modo che il capitale finanziario possa essere facilmente trasferito alla generazione successiva. Questi due fattori messi insieme istruzione acquisita e capitale trasmesso aiutano la classe dirigente a mantenere i propri vantaggi. La formazione di una classe dirigente permanente è possibile solo se quella classe esercita il controllo politico. In passato succedeva in modo naturale. La classe politica era per lo più un'emanazione dei ricchi e quindi c'era una certa comunanza di opinioni e interessi tra i politici e il resto dei ricchi. Oggi non è più così. I politici provengono da classi e contesti sociali diversi e spesso hanno poco in comune se non nulla con i ricchi. Bill Clinton e Barack Obama negli Stati Uniti Margaret Thatcher e John Major nel Regno Unito provenivano tutti da contesti modesti ma sostennero in modo piuttosto efficace gli interessi dell'1%. Nelle democrazie moderne i ricchi usano i contributi alla politica ai centri di studio ai mezzi di informazione per comprare misure economiche favorevoli. Meno tasse sui redditi alti più detrazioni fiscali plus valenze più alte grazie agli sgravi fiscali e agli imprese meno regolamentazione del settore finanziario. Queste misure a loro volta aumentano la probabilità che i ricchi rimangano in cima alla piramide e sono l'anello finale di una catena che parte dall'aumento della quota del capitale sul reddito nazionale netto e finisce con la formazione di una classe dirigente che perpetua continuamente il suo potere. Anche se la classe dirigente non provasse a tirare dalla sua parte politica avrebbe comunque un grande vantaggio. Quando le eliti investono nelle campagne elettorali e costruiscono le proprie istituzioni all'interno della società civile il loro status diventa quasi inattaccabile. Le elite dei sistemi capitalistici liberali si isolano e il risentimento del resto della società cresce. Il malessere che oggi attraversa i paesi occidentali è in gran parte dovuto al divario tra le elite ristrette e le masse che hanno avuto pochi benefici dalla globalizzazione e che considerano il commercio globale e l'immigrazione la causa dei loro mali. Questa situazione somiglia a quella vissuta negli anni 70 dai paesi in via di sviluppo come il Brasile, Nigeria, Turchia chiamata disarticolazione sociale. Mentre la borghesia era pienamente inserita nel sistema economico globale gran parte dell'entroterra rimaneva indietro. La malattia che sembrava riguardare solo i paesi in via di sviluppo comincia a colpire anche il nord del mondo. E vedremo nella prossima puntata come tutto questo processo si sviluppa anche altrove. Un saluto dal vostro Scrooge.